Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Lerondi, ho 20 anni e faccio uno stage di 52 settimane presso la CSS Assicurazione lavorando a metà tra il settore risorse umane e il settore pilotaggio del caso. Ho scelto il CSS perché dopo il colloquio di lavoro ho trovato un'azienda che si sarebbe presa cura di me e penso sia l'azienda giusta appunto per crescere nel mondo del lavoro. Ma quello che mi piace di più innanzitutto è la responsabilità. Noi veniamo trattati come dei ragazzi, quindi è vero che abbiamo anche meno compiti e meno doveri però siamo sempre responsabilizzati, noi siamo praticamente dei collaboratori. Ci sono delle principali differenze tra un apprendista e uno stagista. Innanzitutto uno stagista fa solo un anno di lavoro mentre un apprendista ne fa tre. Noi ragazzi a livello di organizzazione abbiamo il compito di organizzare ad esempio delle serate con i genitori. Grazie di avermi seguito, spero che vi sia piaciuta questa giornata e mi raccomando controllate il nostro sito per rimanere sempre aggiornati su quello che CSS offre per voi. Ciao!